Salve a tutti, oggi vedremo insieme come è possibile utilizzare il multimetro o comunemente chiamato tester, è infatti quello strumento che ci permette di misurare delle grandezze elettriche e calcolarne addirittura il valore. Quindi la caratteristica comune del multimetro è che per essere utilizzato deve essere accompagnato da una coppia di puntali generalmente. Due puntali che vanno inseriti in dei forellini che ci sono a bordo del multimetro a seconda della fascia di funzionamento della grandezza elettrica che dobbiamo misurare e i loro terminali vanno in contatto con la parte circuitale o il componente elettronico dal quale dobbiamo ricavare la lettura della grandezza elettrica. Quindi l'evoluzione dei multimetri è abbastanza evidente, abbiamo inizialmente i multimetri avevano una caratteristica analogica, tutt'oggi utilizzati hanno molti più fuori di quelli che ci sono adesso che ci permettono di impostare la caratteristica di funzionamento. Con l'evoluzione questo tipo di multimetro assume questa caratteristica ovvero quella di avere pochi ingressi che vanno utilizzati a seconda della fascia di funzionamento e un selettore che ci permette appunto di selezionare oltre alla grandezza elettrica in esame la fascia di range della grandezza elettrica che appunto stiamo misurando e un display sul quale vediamo direttamente delle cifre che ci mostrano il valore della grandezza elettrica da misurare. E poi abbiamo dei multimetri con le stesse caratteristiche che però hanno più fasce di funzionamento ad esempio a differenza di questa ci permette di misurare anche delle capacità. Quindi ci concentriamo su questo tipo di multimetro e faremo degli esempi su come utilizzarlo e su come misurare delle grandezze elettriche. Questo multimetro ci permette di misurare resistenze dove il selettore va appunto impostato in questa fascia di funzionamento. Tensioni continue distinte appunto da questo valore. Tensioni alternate. capacità che si misurano in farad. Correnti alternate. Correnti continue e siamo tornati al valore di resistenza. Quindi abbiamo questo disco che ci permette di selezionare la grandezza elettrica da misurare. Tre sono le regole fondamentali quando andiamo a effettuare una misurazione. Una è rendersi conto della grandezza elettrica da misurare quindi andare ad individuare il campo di funzionamento ovvero la grandezza elettrica da misurare. Ad esempio se devo misurare una resistenza so che devo lavorare entro questi valori. Inoltre il valore di aspettazione che devo andare a leggere più o meno deve essere poco minore del valore massimo che questa scala è in grado di misurare. Ad esempio devo misurare una resistenza nell'ordine dei 100 kOhm imposterò il selettore nei 200 k. In modo tale che il valore massimo non supera il valore di fondo scala dello strumento altrimenti mi dà errore e quindi sarò costretto a selezionare il successivo campo di funzionamento. Poi la terza regola controllare sempre i puntali che siano impostati nella modalità giusta di funzionamento. Di solito abbiamo un puntale nero che va messo in comune e il puntale rosso che va messo o in un morsetto o nell'altro. Nel caso di questo strumento per costruzione abbiamo una presa diciamo per il puntale che è concepita per lavorare per la misura di tensione, di resistenza e di continuità di diodi. Mentre altri casi in cui abbiamo misure di correnti nell'ordine dei millesimi di corrente quindi delle milliampere e nell'ordine delle decine di ampere. quindi va spostato in questa modalità di funzionamento. Mi raccomando non sbagliamo quando facciamo delle misurazioni perché rischiamo di danneggiare lo strumento. Iniziamo appunto dalla resistenza. Quindi imposteremo il selettore nel range di funzionamento della resistenza, quella che è contrassegnata dal simbolo ohm. Di solito una scala di colori o comunque una leggenda ci farà capire dove stiamo lavorando. Allora io ho tra le mani una resistenza di 10k ohm. Lo so perché la lettura delle bande colorate mi permette di capire in che ordine di grandezza sto lavorando per quanto riguarda questa resistenza. Magari dedicheremo un giorno un tutorial dove parleremo appunto della lettura delle resistenze in base al colore. Ma comunque io supponendo che abbia come incognita questa resistenza imposterò come valore di funzionamento, come fondo scala il valore 20k, 20k ohm. Quindi appoggerò i puntali all'estremità della mia resistenza e noterò che mi misura 9,91, comunque un valore tendente a 10k ohm. Da notare che evito di toccare con le dita o comunque col corpo umano i terminali e la resistenza stessa per evitare di comunque compromettere la misura. Un caso particolare di resistenza è la continuità, quindi quando si ha resistenza zero. Per esempio se vogliamo verificare che vi sia continuità in un cavo o in un fusibile, che è questo qua che abbiamo tra le mani, imposteremo il multimetro in questa sezione di funzionamento ed è una sezione particolare perché toccando tra loro i puntali noteremo che il multimetro emette un bip e farà accendere un led. A dimostrazione che vi è continuità e tra i puntali, a meno che non siano interrotte o guasti, esiste la continuità e il tester sta funzionando. Allora, se noi prendiamo un fusibile, nel normale funzionamento, cioè quando il fusibile non è guasto ed è funzionante, dovrebbe esserci continuità all'interno. Quindi andando a far toccare i puntali con l'estremità del fusibile notiamo appunto che vi è continuità grazie all'emissione del segnale ottico e acustico dello strumento. Adesso prendiamo in considerazione la misura della grandezza elettrica a tensione, quindi sfrutteremo un alimentatore che mi trasforma una tensione alternata 230V, quindi la tensione di rete, a una tensione continua 12V. È un alimentatore che noi abbiamo già utilizzato negli altri tutorial per alimentare strip led, quindi un alimentatore che già abbiamo visto come connetterlo e come, diciamo, dimensionarlo. Allora, impostando il multimetro nel range di funzionamento relativo ai volt, quindi alle tensioni, noi ci occuperemo della sezione tensione continua. Quindi metteremo il selettore nello scatto che ha come fondo scala 20V, quindi perché ci aspettiamo di avere un valore che è compreso entro i 20V. E controllando appunto i puntali che siano, diciamo, inseriti nelle giuste prese in modo da ottenere una misura di tensioni, quindi comune e tensione, noi daremo alimentazione all'alimentatore, quindi daremo energia, tensione di rete, quindi all'alimentatore che in questo momento alla sua uscita potrebbe fornisce appunto una tensione continua 12V. Lo vedremo appunto grazie al multimetro, leggendo appunto dei valori di tensione. Quindi prenderò i puntali e poggerò nei morsetti, nei relativi morsetti dell'alimentatore i puntali e noterò che ho una lettura di 12V, virgola 0,1, comunque 12V, anzi è una lettura abbastanza fedele alle caratteristiche dichiarate dal costruttore dell'alimentatore. Sfruttando sempre lo stesso alimentatore ho la possibilità anche di fare una lettura di tensione alternata, quindi imposterò intanto il selettore del multimetro nella parte di funzionamento relativa ai volt alternate, quindi a una lettura di tensione alternate e come fondo scala imposterò 750, ovvero un fondo scala che comprende il valore che mi aspetto di leggere, ovvero i 230V della rete. Quindi andando a individuare neutro e fase quindi di alimentazione che appunto sono connessi all'ingresso dell'alimentatore mi occuperò appunto di fare una lettura della parte primaria dell'alimentatore, ovvero la parte dove è collegata la tensione all'ingresso. Quindi compatibilmente appunto all'impostazione dello strumento, al range di funzionamento, al fondo scala e al posizionamento dei puntali, prenderò gli stessi quindi puntali e li poggerò tra fase e neutro, stando attenti a non farli poggiare tra loro e leggerò un valore di 225V, quindi un valore appunto abbastanza coerente con i valori che mi aspettavo. Adesso voglio sfruttare lo stesso alimentatore per effettuare delle letture di correnti continue e correnti alternate. Ricordiamo che la lettura delle correnti con questo multimetro va fatta connettendolo in serie alla parte di circuito dove scorre la corrente da analizzare, quindi da leggere. Una volta chiaro questo concetto, ovvero quello di connettere lo strumento in serie alla parte di circuito dove dobbiamo leggere la corrente che vi scorre, dobbiamo individuare un carico da collegare all'alimentatore. Nel caso in cui abbiamo un alimentatore da... da sfruttare, perché un carico all'alimentatore mi provocherà un consumo, quindi una circolazione di corrente, perché l'alimentatore in questo momento è a vuoto. Quindi andando a connettere ad esempio una striscia LED che già conosciamo dai precedenti tutorial, anzi vi invito a cercare nel mio canale tutto ciò che vi potrebbe chiarire, ciò che abbiamo dato per scontato in questo video, ovvero la connessione ad esempio di un alimentatore alla rete, la connessione di una strip LED, la connessione dei morsetti rapidi. Torno velocemente al discorso in oggetto, quindi connettendo una strip LED, quindi un carico all'alimentatore, avrò un consumo e quindi una circolazione di corrente. Occupandoci della parte secondaria dell'alimentatore avrò appunto una circolazione di corrente continua, quindi impostando il selettore del multimetro nella sezione ampere continui, quindi dando come fondo scala ad esempio 20 ampere, dovrò scollegare il circuito nella sezione continua e connettervi in serie lo strumento. Quindi la topologia del circuito va modificata in questo modo, si stacca un filo dall'alimentazione e vi si collega in serie i due puntali, quindi un puntale va a finire dove era collegato prima il filo e l'altro puntale va collegato in continuità al filo che abbiamo scollegato per chiudere la serie del circuito e quindi chiudere il circuito. Quindi una volta impostata la topologia del circuito dobbiamo ricordarci della terza regola che abbiamo fissato per effettuare le letture col multimetro, ovvero di spostare il puntale non comune nella presa apposita, ovvero in quella relativa alle letture delle correnti. Noi nel nostro caso la metteremo in 20 ampere, cioè in quelle correnti che non supereranno i 20 ampere. Poi se la corrente non è così elevata, non è così diciamo in quest'ordine, ma in ordine di grandezza più piccolo, eventualmente sposteremo il puntale in milliamper e allo stesso modo il selettore lo sposteremo nelle letture dei millesimi di corrente. Ma la misura in questo modo dovrebbe andare a buon fine. Quindi diamo alimentazione al circuito, quindi misuriamo 1,04 ampere. Questa appunto è una misura di corrente effettuata con il multimetro. Stesso approccio di misura possiamo farlo per misurare correnti alternate. Quindi spostiamo la serie fatta tra multimetro e alimentatore dal lato primario dell'alimentatore, ovvero dal lato dove abbiamo la tensione alternata. Quindi ripristinati i collegamenti nella parte continua, quindi nella parte secondaria dell'alimentatore, connetteremo in serie questa volta il multimetro tra fase di alimentazione della rete, magari aiutandoci con un morsetto, e dove prima era inserita la fase. Quindi abbiamo interrotto la fase e messo in serie il multimetro tramite i puntali. Una volta fatto ciò imposterò il selettore nella regione di funzionamento relativa agli ampere alternati e metterò come fondo scala 20 ampere al solito. Quindi do alimentazione al circuito, il circuito viene alimentato, vuol dire che tutto il collegamento è corretto è corretto e misurerò 0,06 ampere. Ho voluto lasciare per ultima la misurazione delle capacità. Le capacità appunto sono dei condensatori, io ne ho procurato uno, è abbastanza diciamo visibile, l'ho preso da un motore, da una pompa e il costruttore dichiara che la capacità è 35 microfarad. Ecco qua, 35 microfarad. Noi lo vogliamo misurare con il nostro multimetro. Non a caso ho lasciato per ultimo questa misurazione perché il multimetro prevede che la misura della capacità venga fatta senza l'uso dei puntali perché ha degli ingressi dedicati alla misura delle capacità. Questo qua nel caso di questo multimetro, possibilmente un altro multimetro costruito con un altro hardware utilizza i puntali per misurare le capacità. In questo caso lo fa con questi due ingressi. Quindi mi sono costruito dei terminali con queste spine che ho montato in modo tale che possono essere inserite qua dentro. Ovviamente ricordando le regole per andare a impostare il funzionamento del multimetro dobbiamo andarci a posizionare nella fascia di funzionamento indicato con F farad, quindi nella misura delle capacità e come fondo scala metterò 200 microfarad. Così rientrerò nei 35 microfarad più o meno che devo andare a misurare. Inserendo queste spine all'interno degli ingressi dello strumento misuro 35,5 farad. Scusate, 35,6 microfarad che è il valore che dichiara il costruttore anzi addirittura il costruttore dichiara 35 microfarad più o meno il 5%. E mi pare che ci siamo in ciò che ha dichiarato.